Siamo a Montevergine, ospedetto d'Alpinolo, siamo qui in compagnia della signora? Sì, salve, dite. Signora? Massa, Luisa. Luisa, signora Luisa, appena passata la processione, cosa ne pensa della festa, della processione? Bellissima, a parte che il paese è bellissimo. Siete di ospedaletto? No, quasi diciamo. Quindi ogni anno vivete questa festa? In famiglia siamo di ospedaletto. Vecchia tradizione praticamente? Vecchissima. Da ripetere ogni anno? Comunque è uno spettacolo bellissimo perché il paese è molto ospitale. Merita molto? Merita molto. I commenti sono stati tutti positivi? Perché c'è un legame affettivo, però penso che l'ospedaletto sia ospedaletto. È un paese che merita. Ringraziamo e salutiamo gli amici di Campagna Tube. Un saluto.